Ferrari è da sempre presente nelle competizioni GT. La nostra storia è costellata di successi nell'ambito delle gare turismo. Fin dagli anni 60, l'innetta Ferrari hanno vinto le gare più importanti, dunque dalla 24 ore di Le Mans, alla 12 ore di Cybring, alla 24 ore di Spa, tutte le corse che hanno fatto la storia del nostro brand. Siamo in un livello di competizione che tutti i detali sono stati in alto livello. Quindi se c'è una ragione o di detali che possiamo migliorare, sia per il caro o il racetrack o il sviluppo o il progetto, tutto ciò è davantage. Per noi è una cosa buona, e spero con i risultati possiamo andare più veloce sul racetrack. E come sempre cerchiamo di associare il nostro brand con partner che sono altrettanto leader nei loro ambiti. E anche in questo caso con Ansis abbiamo cercato un leader nella propria area di competenza e così è nato questo sodalizio che ci sta portando a un'attività sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista promozionale che chiaramente sta dando i suoi frutti con dei risultati assolutamente importanti. Abbiamo deciso di usare l'Ansis perché solo in Ansis abbiamo trovato la velocità, l'accurazione e la realabilità. Abbiamo deciso di usare l'Aero-Developpamento, senza l'Aero-Developpamento, senza l'Aero-Developpamento, e questo è il motivo per cui siamo qui. Abbiamo chiesto di vincere ogni settimana, ogni racconto. che ci sia davvero grande soddisfazione quando stiamo raggiando gli ragazzi dagli stessi più tanti stessi in mondiale. In il mondo del mondo del mondo, il tempo è molto forte, e quindi solo l'Ansis scalabilità sui sistemi aiutori possiamo usare molti simulazioni allo stesso tempo. Simulazioni prima, dopo dopo, e quindi da questo punto, ciò che avremo ad un'improvviso ogni volta in un'altra circuizione. E noi vediamo dove andiamo, cosa succede con la simulazione. Grazie a la simulazione, l'aerodinamici ha informazioni sull'aerofield. Pressure contours, flore visualizzazione, path lines, e così on. Based on this information, we can take the best decision to speed up the process and to get the best results. Well, I know ANSYS is doing a fantastic job on the development of the simulation, and our car performance is definitely better. They did a fantastic job with Ferrari, we had a big improvement, so it's a good combination. . .